L'ospitalità a lungo l'itinerario della Via Francigena in Toscana da nord a sud. Questo è il tema del convegno Toscana in Cammino, ospitato non a caso dalla Chiesa di San Giovanni o Chiesa del Viaggiatore sull'autostrada del Sole. L'evento, organizzato da Regione Toscana, Associazione Europea Via Francigene e Ad Limina Petri, è servito a presentare il certosino lavoro di censimento svolto da tre ricercatori su 30 strutture di accoglienza e oltre 300 edifici religiosi, da Pontremoli a Radicofani, che ora servirà a dettare le linee future del turismo religioso. Io credo che insieme potremo costruire una sorta di protocollo, probabilmente, che mette in condizione anche la Regione di condividere le scelte, valorizzare gli elementi più condivisi e più significativi e, perché no, mettere nel circuito delle risorse regionali anche questo aspetto fondamentale nella valorizzazione dei cammini e della Francigena in Toscana. Determinanti nel turismo religioso in Toscana sono l'associazionismo e la volontà delle strutture di accoglienza di rendersi sempre più accessibili ai pellegrini e ai viaggiatori, mantenendo intatta la dimensione lenta e riflessiva del cammino lungo un percorso come la Francigena. Il quadro che ne emerge è quello di una nuova geografia della Francigena, in cui esistono luoghi che hanno saputo organizzarsi mantenendo le antiche consuetudini dell'accoglienza praticate sul cammino da tempi antichi, luoghi maggiori nelle grandi città, luoghi minori nei piccoli paesi, nelle realtà rurali, che rappresentano in tutto e per tutto un nuovo modo di percorrere un tracciato, un nuovo modo di attraversare un paesaggio complesso come quello toscano e un grande viaggio nella varietà e nella ricchezza spirituale della nostra regione. Un viaggio che sempre più viaggiatori, toscani e non, stanno scoprendo rigorosamente a piedi.